Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Attimi di paura per Massimo Mauro, ex centrocampista e attuale opinionista televisivo. L'ex calciatore è stato colpito da un infarto mentre giocava una partita a padel. Quando all'improvviso si è sentito male, è stato immediatamente trasportato in ambulanza all'ospedale di Catanzaro, dove è attualmente ancora ricoverato. Secondo quanto riportato da TuttoSport, inizialmente sembrava che Massimo Mauro soffrisse di indigestione, ma successivamente si è capito che stava subendo un infarto in atto. Di conseguenza, è stato portato immediatamente in ospedale in condizioni critiche ed è stato sottoposto a un'angioplastica d'urgenza. L'uomo è ancora ricoverato nella struttura sanitaria, ma ha dichiarato personalmente alla Fondazione Viagli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus, di cui è presidente, che sta andando tutto bene. Ha elogiato la bravura e l'attenzione dei medici e del personale ospedaliero, affermando di essere seguito con cura e affetto. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Grazie per la visione e al prossimo video. Non mancare! Grazie per la visione!